All'inizio si era pensato a un colpo accidentale esploso durante i festeggiamenti per il Capodanno. È invece vittima di un agguato e N, il giovane di 26 anni colpito la testa da un colpo d'arma da fuoco, arriva negli ACP, un complesso di edifici popolari di Santa Maria Capoavetari in provincia di Caserta. L'ipotesi investigativa formulata in base alle prime risultanze è che si sia trattato di un agguato ai danni del 26enne che è tuttora ricoverato all'ospedale di Caserta in condizioni molto gravi. Un raid probabilmente legato ai traffici illegali, in particolare la gestione del traffico di droga all'interno del rione ACP che si trova in via Raffaello nel comune sanmaritano. Non l'unico episodio criminale avvenuto la notte di Capodanno nella città del Casertano dove poco prima della mezzanotte un ragazzo di 17 anni era stato accoltellato a una gamba durante una lite. L'aggressione era avvenuta in un locale dove si stava brindando al nuovo anno, un clima di tensione che si registra già da qualche settimana dopo la megarissa scoppiata nei pressi dell'anfiteatro, un episodio che ha portato all'arresto per tentato amicidio di un ragazzo di 19 anni all'emissione di 5 d'aspo e allo stop per la festa in piazza per il Capodanno.